Buonasera, ben trovati in questo secondo spazio di Telebari Social Night, buon venerdì ai nostri telespettatori. Buonasera Fabio Mollica. Che bello oggi diciamo, che bello insomma. Senza Andrea, che bellissimo. Senza Andrea, dai. Però nel terzo spazio Andrea ci caccia e farà questo insomma terzo spazio dedicato a Spazio Teatro. Buonasera al nostro ospite, il dottor Andrea Rubino, complimenti per questi 40 anni di storia. A questo punto lanciamo l'RVM di presentazione di questa importantissima azienda del nostro territorio. In 40 anni noi della Rubino Immobiliare ne abbiamo aperte di porte e ne abbiamo chiusi di contratti. Più di 20.000 intermediazioni portate a termine. Rubino Organizzazione Immobiliare, da 40 anni, il valore dell'esperienza per chi desidera vendere o comprare casa. www.rubinocase.com 40 anni, un traguardo importante, illustre. Insomma, ci racconti la storia della sua azienda? Beh, la storia che quest'anno, l'anno che si è concluso, il 2023... Come Telebari? Nei 50 e voi 40? Infatti, 50. Infatti, io ricordo con grande piacere anche un po' di nostalgia, diciamo, quando è stata le prime trasmissioni di Telebari. Era un giovane, almeno io ero giovane. Forse lei non era nata. Sicuramente non era nata, però, diciamo... Quindi, ecco, c'è questa... Voi 50 anni e noi 40 anni. 40 anni di lavoro... Infatti c'è un nostro articolo dedicato a voi. Di lavoro, di grande attività, di grande impegno. Però, ecco, vorrei anche fare chiarezza su quello che è l'agenzia immobiliare, perché molte volte non si ha un'esatta idea di quello che fa l'agenzia immobiliare. Perché molte volte ci si confonde o si confonde con i venditori di case. Ecco, noi non siamo venditori di case. Nella nostra attività rientra anche la vendita di case, come rientra un po' quello che è il marketing, come quello che può essere un po' tutte le attività di consulenza, di controllo di documenti, sia a livello urbanistico, sia a livello anche legale, di proprietà. Però dopo noi, la nostra attività principale è quella della mediazione. Infatti anche nello spot che avete mandato in onda, parliamo di intermediazione. Cioè, è la nostra attività principale, il clou è la mediazione. Quindi, questo è quello che... Questi 40 anni, come diceva lo spot, ne abbiamo fatte di trattative tantissime e abbiamo concluso anche tanti contratti, però con la grande professionalità e con un continuo miglioramento, con corsi di formazione settimanali, mensili. Quindi, ecco, c'è stata anche da parte mia, come Presidente e fondatore della società, e a tutto il team, a tutta l'organizzazione, un'attenta formazione e costante formazione. Ecco, ricordo anche, per quanto riguarda conoscere meglio quella che è l'attività di agenzia immobiliare e quindi di mediazione. Noi abbiamo radici lontane che provengono addirittura, diciamo, a livello dei romani. Quindi, dopo che metto c'è stata un'evoluzione, oggi per poter fare l'agente immobiliare occorre, a parte il diploma medio superiore, fare un corso preparatorio o più fare degli esami nella Camera di Commercio. Cioè, non è oggi semplice, anche perché dagli ultimi dati dalla Camera di Commercio, oltre il 50% viene bocciato. Quindi è un discorso molto serio. E' un esame vero. E' un esame vero. Ma anche giusto che sia così, diciamo, per tanti anni, dall'inizio del 90, l'ultima legge, l'ultima delle leggi che hanno un po' cambiato, io parlo sempre anche agli alunni, di svolta epocale, la legge dell'89, che ha messo un po' le cose molto in chiaro rispetto anche alle vecchie precedenti leggi. E' un nostro ruolo, un ruolo sociale, perché noi seguiamo le famiglie in quelle che sono le attività di compraventi, di locazione immobiliare, e quindi un ruolo sociale, perché stiamo a contatto prevalentemente con le famiglie, e oltre economico, quindi bisogna stare molto attenti per curare quelli che sono tutti gli aspetti per fare una compraventità tranquilla e sicura. Queste sono passi importanti. Dottore, nell'intervista che abbiamo fatto anche per Amabari, per il magazine, lei ha ripetuto diverse volte la parola fiducia. La fiducia la si costruisce con tanta fatica, la si consolida con altrettanta fatica, però è facile poi perderla. Adesso voi avete 40 anni di storia, magari la gente si accosta a voi, si avvicina a voi con maggiore fiducia, ma all'inizio credo che non sia stato facile. Sì, innanzitutto la differenza tra 40 anni fa, cioè negli anni primi, negli anni 80, e oggi, oggi invece ci sono tanti altri sistemi che tu forse se ne parlerà, o comunque a livello di social o d'altro, e quindi anche un po' con tutte le situazioni che stiamo vedendo giornalmente anche in tv sull'influencer ed altro, che diciamo che sono anche un po' manipolati, quindi è il discorso di creare una presenza, quindi influencer, che possa appunto influenzare un po' i consumatori e la clientele in genere. Ecco, all'epoca non c'era questo sistema, e quindi c'era il passaparola, ecco, questa è la cosa importante, quindi passaparola, e quindi un cliente che lo dice all'altro cliente, questa è la cosa importante. Quindi per noi, dall'inizio proprio della nostra attività, o anche dall'inizio di quello, quando io ho iniziato a fare l'attività, che è i primi anni, diciamo i fini anni 70, nel 79, e c'è sempre stata una grande attenzione, una grande serietà, onestà, perché il cliente si attende un servizio professionale, un servizio onesto, serio, ma è quello che ognuno di noi chiede, quando si serve di un professionista, o di un... Quello che io mi aspetto dal cliente, o dal fornitore, o dal servizio professionale, una serietà, è la stessa cosa che noi facciamo da 40 anni. Ecco perché la fiducia è importante. Ci sono dei rischi in questo settore, per voi agenzie immobiliari? Beh, noi abbiamo molti doveri, che moltamente non tutti conoscono, ma abbiamo molti doveri, e molte responsabilità, che rientrano un po' a quello che è la nostra, la legge professionale, quello che stabilisce il Codice Civile, e infatti noi abbiamo anche l'obbligo di fare un'assicurazione professionale su quello che possono essere i rischi, su quello che possono essere, diciamo, le cause di danni ai clienti. Quindi questo dimostra che i rischi ci sono, responsabilità, che le devo dire, al discorso di controllo delle documentazioni, visori ipotecari, questo come rischi che sono legati un po' all'attribilità. È chiaro che se andiamo a vedere quello che è il nostro rischio, il nostro rischio è un rischio professionale, imprenditoriale, perché se noi non concludiamo l'operazione non abbiamo diritto a nessun tipo di compenso, di provvigioni, quindi il nostro rischio è questo, che non so se ci sono, se questi rischi sono anche di altre attività, ecco, altre attività hanno altri tipi di rischi. Noi abbiamo questo rischio, e quindi ho detto, molti doveri, diritti ne sono pochi, ma è un rischio maggiore, ma è legato un po' anche alla clientela che non riconosce un'attività professionale, non riconosce un'attività che in un certo modo è astratta, perché è chiaro che noi, a parte la casa che uno compra e vende, però dopo il nostro servizio professionale, che non ha, cioè è astratto. Quindi pensa che sia una cosa semplice, una cosa facile, e quindi che non è così, quindi è chiaro che dopo di che ci scavalca, e quindi questo è il nostro rischio anche. A questo punto io se sei d'accordo Fabio, lancierei l'RVM per parlare poi del prossimo argomento con il dottor Ruvino. Quando vuoi cambiare casa, meglio prima acquistare casa nuova o vendere quella vecchia? Dipende, se i denari non mancano, possiamo cominciare dall'acquisto. L'importante è vendere casa vecchia entro i 12 mesi. In questo modo evitiamo brutte sorprese dall'agenzia delle entrate con tasse da pagare. Se invece abbiamo necessità dei denari della vecchia, allora meglio prima vendere e poi acquistare, però a una condizione. Fai inserire nell'agenzia immobilare che ti segue questa dicitura. Tra preliminare e atto pubblico devono intercorrere non meno di 6, 8 o 12 mesi di tempo. Fabio? Dottore, abbiamo visto che anche lei sfrutta i social, si è adattato un po' ai tempi. È importante portare queste tematiche sui social? La gente oggi si informa attraverso social, siti web, lo fate anche voi? L'obiettivo della società, della rubina immobiliare, è quello di dare un servizio trasparente, informare, perché ritengo che il cliente debba conoscere prima appunto di comprare casa, va informato. Noi offriamo questo servizio tramite i social, perché oggi i social sono diventati i mezzi di comunicazione determinati, più importanti. E che io, sentendo anche il vice direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, che prima voi avete intervistato, io ricordo che noi parliamo di 30 anni fa o qualcosa in più, noi facciamo investimenti anche importanti con la Gazzetta del Mezzogiorno. cioè prima il mezzo per il cliente, per noi, ma per il cliente di trovare casa era soltanto comprare in questo caso la Gazzetta del Mezzogiorno, si andava a spulciare qualcosa come 4-500 annunci senza foto, senza niente, dopodiché iniziava la sua ricerca. Chiaramente era un mercato diverso. Sono cambiati, insomma, oggi ci sono i portali, i portali immobiliari, quello che è internet, tutto quel che è l'informazione online dove uno può vedere foto, può vedere tutto in un certo qual modo, però è un, diciamo, è partito dal 2005, cioè da quando questi portali, prendendo tutto quel che sono le tecnologie di internet, hanno potuto, però, ecco, è un fenomeno che dura, diciamo, che è stato da 20 anni, i discorsi portali che a me si sono evoluti, quindi, è chiaro che noi dobbiamo adeguarci a quelli che sono i tempi e quindi l'abbiamo sempre fatto e infatti, così mi permetto di ricordare che noi, nel momento in cui io ho fondato la società nell'83, 84, io avevo già il mio Macintosh che oggi, diciamo, sarebbe un cimelio da modernariato, però avevo già questo PC che mi serviva per l'attività. Dottor Rubino, una, diciamo, curiosità, quali innovazioni sperimentate e riuscite anche a provare nel vostro settore? Beh, noi siamo sempre molto attenti, quindi usciamo un po' tutto quello che è la nuova tecnologia, quindi abbiamo parlato dei portali, ma ultimamente noi utilizziamo un macchinario che, diciamo, si chiama Matterport che permette di riprendere non soltanto a video l'immobile, quindi fare un virtual tour a 360 gradi, quindi non soltanto vedere le pareti, ma anche le volte, vedere un po' tutto, quindi a 360, quindi fare una visita guidata, però è uno strumento ad alta tecnologia che permette di trasformare lo stato dei luoghi dell'immobile, quindi con la foto, in una planimetria, con la misurazione, cioè in pratica il cliente tramite questa strumentazione può anche vedendo il filmato misurare le stanze, quindi prendere le misure per dopo eventualmente vedere se le misure vanno bene con i mobili che si ha, quindi, però ecco, è uno strumento che ci permette di vedere molto, molto attentamente l'immobile con le misure ed altro, quindi, anche se io sono dell'avviso che la casa, cioè non si compra la casa per i mobili ma si compra i mobili per la casa, però diciamo che è uno strumento importante. Concordo pienamente con lei, dottor Rubino. A questo punto lanciamo un Rwm per poi commentarlo insieme con Fabio e con il dottor Rubino. Secondo Lomi, nel 2022 un immobile su quattro è rimasto invenduto per un prezzo sbagliato. Se richiedi un prezzo troppo alto rischi di non vendere. Se richiedi un prezzo troppo basso rischi di svalutare l'immobile e perdere soldi. Ecco perché noi dalla Rubino Immobiliare prima di mettere in vendita un immobile prepariamo sempre un documento con i prezzi di immobili simili già venduti nella tua zona. i prezzi di quelli ora in vendita e ti diciamo anche se hanno avuto nel tempo dei ribassi e da quanto tempo sono sul mercato. Sono pillole interessanti che aiutano tanto. Io volevo fare una domanda in particolare che si fanno tutti quelli che devono cambiare casa che hanno necessità di una casa nuova. È il momento giusto per acquistare? Beh, è una domanda è come se diciamo vado in osseria e chiedo all'oste no? Quindi però così senza queste battute diciamo che scherzose ma l'immobile è sempre il bene rifugio quindi è sempre stato così quindi ora come investimento togliendo quel che può essere l'oro i dipinti di un certo livello quindi ma diciamo che il bene rifugio per eccellenza è stato sempre l'immobile è chiaro che ci sono alti e bassi perché il mercato immobiliare è caratterizzato dalla ciclicità quindi non possiamo dire che il mercato immobiliare è sempre in crescita o in flessione è ciclico un po' come le onde del mare è ciclo noi veniamo da da un periodo ecco a livello di diciamo di dimensioni fino all'epoca fino al 2008 quindi fino al quello che è stato il crack americano che con i derivati che ha creato chiaramente problemi economici in tutto il mondo quindi quello del 2008 che diciamo agli effetti a meno noi a Bari in Pugli li abbiamo visti dal 2012 in poi e quindi ecco il mercato più basso con meno compraventi con muti che non si concedevano è stato il periodo 2012 e dove il 2014 2015 che abbiamo avuto il picco diciamo di come transazione ma anche come prezzi dal 2015 in poi il mercato è ritornato a crescere sia come come dimensioni come numeri scambiati che come anche un po' di prezzi e chiaramente dopo di che abbiamo l'altro diciamo la situazione del covid 2020 che ha cambiato un po' tutto il mercato però lo ha cambiato forse anche meglio il mercato diciamo che il rimanere in casa due mesi ha fatto riflettere molto in questo caso l'abitante che potrebbe essere proprietario e di deborezza però stando due mesi in casa io penso che ognuno di noi anche quando rimane in casa lo vede quel che possono essere i difetti e i pregi e i pregi della propria casa certamente la voglia di più spazio più aria quindi un po' di qualità della vita è importante quindi dal 2020 c'è stata una flessione a livello di compravendita ma solo perché io lo ripeto solo perché siamo stati due mesi fermi completamente quindi e invece dopodiché il 2021 2022 infatti le compravendite a Bari sono aumentate sono salite dopo c'è l'altro fenomeno del turismo che sta trainando la città di Bari e soprattutto per quelli che sono gli affitti brevi che stanno prendendo piede in maniera importante ed esponenziale io a questo punto siccome il dottor Rubino è una fonte inesauribile potrebbe parlare per due settimane diciamo che fra un mese e un mese lo rinvitiamo per capire quali saranno i prossimi obiettivi la ringraziamo per questa intervista e comunque complimenti per i vostri 40 anni di storia e soprattutto per esservi anche diciamo al passo con i tempi insomma qualcuno che racconta sui social e dà delle pillole di informazione così non si vede facilmente per questo complimenti qualche minuto di pubblicità e lasciamo Andrea come sempre da padrone nel terzo spazio noi andiamo diciamo in ferie e tu ritorni tu nel terzo spazio buona serata a tutti i nostri telespettatori qualche minuto e ci sarà Andrea Ravalese con voi grazie a tutti grazie a tutti